Musica E dopo il meteo ben trovati in studio per la rassegna stampa di quest'oggi, giovedì 8 ottobre. Partiamo come sempre dalla nuova del sud che apre con la cronaca e l'incidente di ieri pomeriggio sulla Potenza Melfi. Potenza Melfi è politica killer, c'è appunto l'affondo sulla politica, non è nuova il gioco di parole a questo tipo di titoli, anche perché non è la prima volta che si verifica un incidente di questa portata. Ne si mastraggia ieri tra attiere e il capoluogo, tre morti e tre feriti, ma il raddoppio dell'arteria può attendere. Incidente tra tre mezzi, le vittime sono due uomini di Pietragalla e un campano, ma in gravi condizioni c'è anche un 37enne di Potenza. Più giù di taglio a sinistra abbiamo il petrolio e le royalties con l'ultima abbuffata. La regione 143 milioni per le estrazioni del 2014 in Valdagri. È stato ufficializzato il gettito del 2015, ma dal prossimo anno sarà un tesoretto dimezzato. E abbiamo sotto il petrolio la cronaca con la violenza sessuale, palpeggiava una dipendente sul lavoro, condannato a cinque anni, un 44enne. Poi anche spazio all'immigrazione, sono stati ritrovati in Francia, in un camion cisterna, partito dalla Basilicata, ben 11 migranti. Nel taglio a destra invece c'è la politica con la nuova giunta di Potenza, con l'ongo lasciati da amici, ma dopo il congresso PD è un rischio. Queste le parole del sindaco di Potenza Dario De Luca, che però in un'intervista alla nuova si dice fiducioso sul futuro. E poi ancora spazio al PD con la cantina ancora aperta. In fine di piede abbiamo la questione dei talassemici e nefropatici, che entro febbraio avranno i primi arretrati. Una storia che arriva da Lauria, falsano i dati dell'Isee per accedere ai contributi sul risparmio energetico. Una famiglia è stata scoperta dalla Guardia di Finanza locale. In fine spazio allo sport, la Lega Pro, entusiasmo riacceso a Matera per l'arrivo di Mr. Padalino e la Serie D con la Lega Nazionale Direttanti, che non omologa il risultato del derby dell'ultima giornata tra Francavilla e Picenno. Invece in Casa Potenza è tempo di analisi profonde. Poi ancora spazio al calcio lucano regionale, con lo zoom completo su recuperi e le gare di Coppa. E passiamo alla Gazzetta di Basilicata, che invece apre con il petrolio e il tar che libera l'iter e a Montegrosso si scaldano già i motori. Il Tribunale amministrativo dà ragione alla Roccopper e Total per i pozzi. Ora la Regione deve passare le carte a Roma. Il governo lucano deve tornare per esprimersi sull'intesa. Dopo la prima bocciatura, entro 30 giorni, altrimenti tutto andrà a Palazzo Chigi. Ovviamente c'è spazio a fianco per la cronaca e l'incidente, l'impatto mortale a Tiera di Vaglio con i tre morti e i tre feriti, di cui un altro grave. Nel taglio a sinistra le questioni ambientali e fenice, perché riparte il forno stoppato. Regione e Arpab risarciscono la richiesta. Il Tar appunta nulla alla delibera regionale del 2004 per sospendere l'attività. Il pericolo doveva essere documentato. C'è anche però l'allarme che arriva da Potenza per le falde acquifere inquinate a Vallone Calabrese. Di taglio a destra invece la visita degli imprenditori da Milano a Pisticci in un'ora e dieci. Ecco il perché serve la pista Mattei. La mission che invita a riflettere sulle potenzialità e la riflessione poi di Nicola Benedetto, consigliere regionale di Centro Democratico. Di piede invece spazio alla cronaca, le toccatine sul luogo di lavoro, i cinque anni per la violenza sessuale, condannato il capo cantiere della Esperia. A fianco ancora alla cronaca abusò di un disabile, minacciandolo, dicendo, ho anche la pistola, processo a Potenza, per un 62enne di Rionero. E ancora la cronaca, Arrapolla, denunciato dai carabinieri, un truffatore dello specchietto. L'abbiamo sentito anche nelle nostre notizie. E Potenza, il Tar, dall'ok ai lavori alla chiesa di Sant'Anna, esulta il parroco Don Franco Corbo. E infine passiamo al quotidiano del Sud, che sceglie una triplice apertura. Centrale è ovviamente la cronaca, con gli altri tre morti sulla strada per Melfi e i tre feriti nel frontale tra le due auto. perdono la vita due uomini di San Nicola di Pietragalla e un terzo di Capaccio. Di fianco, la ripartenza della mensa scolastica dal 3 novembre a Potenza. Saranno tre i menu a scelta. Le iscrizioni sono online sul sito del Comune. Tante novità, ma bisogna pagare almeno 25 pasti in anticipo. E a fianco all'incidente, invece, ancora la cronaca. Palpava la lavoratrice della ditta di pulizia a San Carlo. c'è stata la condanna. Cinque anni esemplari di carcere per il responsabile del servizio. Il PM aveva chiesto molto meno. Nella falsa apertura, invece, c'è spazio per Matera. Verso il 2019, c'è Cotugno, che è interrogato sul bilancio, ammette che abbiamo sbagliato, ma errore non solo nostro. E poi adduce che a questo punto chiede di revocare le assunzioni dello staff del sindaco. Poi ancora abbiamo, invece, di taglio il petrolio, con le royalties da dare alla Basilicata, che nel 2015 arrivano a poco più di 142 milioni. E c'è anche spazio per l'ultimatum del Tarra alla Regione sulle esplorazioni a Montegrosso. E ancora il PD, le schermarie nel PD, con l'uongo che prova a sdramatizzare, e la butta sulla muina. Mentre per il capoluogo, i renziani e gli speranziani ormai sono al muro contro muro. Ancora Fenice, Fenice è andata bene per loro, ma smentite Regione e Arpab. Non c'era nessun pericolo ambientale. Il Tarra sblocca il forno e saranno pure risarciti. E abbiamo anche un intervento di Gianni Pittella, che parte dalla prima. La ricerca della libertà è spinta inarrestabile. Il suo discorso pronunciato ieri a Strasburgo davanti alla cancelliera Merkel, è a Hollande. E infine lo sport, col calcio Lega Pro, il Matera di Padalino, cerca Avramov per la porta, quindi un grosso colpo. E in Serie D, invece, Milicevic, il picerno, dalla gioia del gol, ai dubbi sul tesseramento, appunto il caso del derby sub iudice. E con questo si esaurisce qui la nostra rassegna stampa. Per il momento mi fermo qui, ma vi lascio alla programmazione della nuova. A più tardi. a più tardi. A presto. A presto. A presto. A presto. A presto. Grazie a tutti.